Ecco sono partiti gli altri due che non avevo mangelato sono Cucuzza e Artizzone E' una bella gara da vedere Vediamo chi esce Prima dalla curva credo che sia stato Scuderi Ma sono tutti Scuderi si avvantaggia Si avvantaggia ancora e vince Scuderi su Artizzone e Cucuzza Bravo, molto bravamente al meeting di Sicily Ward Per avere oggi stabilito la migliore prestazione con 20,66 dei metri di 200 Grazie a tutti Grazie a tutti